Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Mad Maxi Mio nome è come sempre qui tuono 8 E quest'oggi ragazzi ragazzi e ragazze Siamo tutti qui riuniti perchè sono entrato in macchina e ho fatto una minchiata No non ti preoccupare adesso rientriamo Perchè ho sbagliato Siamo tutti qui riuniti per andare da Hope e anche da Griffa Perchè dobbiamo andare da Griffa Dimmi tutto quello che vuoi tesoro Ah si Ah si e E vai tunnel porcospini Che bello Che bello Caricatore massimo per fucile da cecchino Ok Quindi ci da un potenziamento Ora Dove dice lei E' dove Where Qua Ci sono le strade quindi eviterò di mettere i pneumatici da sabbia Questa è la nostra nuova Magnum Opus che avrete visto E' bellissima Io ho messo la mimetica La colorazione mimetica perchè è figa E prima che si mettono a chiacchierare del più e del meno io direi che andiamo da Griffa Ottimo Salve Ah io ho messo anche uno scarico migliore e una corazza migliore Quindi siamo un sacco corazzati Aia Forse non dalle cose che ci sparano ma non è un problema Salve Ci vediamo Cabrones Mi sparano No non col fucile Non con questo Madonna il cazzo Vabbè io quella la voglio tirare giù quindi Torniamo indietro E facciamo Hello Ciao bel fiore Ma come scende Ah ci sparano Ci sparano Ci sparano Ci sparano Andiamocene Andiamocene tantissimo Gas town è bella da girare comunque perchè ogni due secondi c'è qualcuno che vuole ucciderti Ed è per questo che non taglio le cose qua Perché anche se io corro a tutto gas Comunque un po' di danni li riceviamo lo stesso Uh c'è un altro Attenzione facciamo il numero Vogliamo fare il numero E lo facciamo E lo facciamo cazzo Yes Al volo Perché voi poveri pagani non potete capire Quanto è bello prendere al volo quei robin Uh stiamo vicino al tempo di D-Fry che noi non l'abbiamo ancora conosciuto oltretutto Ma va bene Grifa Ciao Stoar Aia Credo di stare a... Tacci Potevi essere in un posto un po' più facilmente raggiungibile eh Oh griffino mio Usciamo di qua E... Passiamo Cos'è che era quella risata? Quella... Cos'era? Non ti segare sulla macchina Te l'ho già parlato Poi copri tutta la vericiatura di bianco ed è un casino Ciao griffino Ancora questa roba Sono un figo Sì Ancora Con sti bacini Che roba Abbiamo 28 oggettoni quindi Ehm Ok Sicuramente questo Ehm Questo 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 Tutti Tutti I pugnini Ah sì Più cibo Voglio più cibo Ok Confermiamo Fantastico Più facile di così Che te devo dire? Ecco alzati Che a nessuno piace venire stuprati da un ominide con un guscio Però Capita Succede nella vita E va bene così E ora possiamo andare nella direzione Della nostra meta Scusa non mi parlare Ho un attimo un problema Ciao Ok Ok E ok Problema risolto Perfetto Perfetto Dicevamo Gollum Mi stavi dicendo qualcosa Sulle rigs Perché in inglese i big rigs sono tipo i tier Nostri Che gloria immensa Hai ragione Ehi Ehm La torre Mi piace Yeee Ehi 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 Quanto sono strozzo Ok Tiriamo giù anche questo Va Ma si dai Ok Dentro i tunnel quindi Che bello E' pieno d'acqua Ma è pieno d'acqua Ma è pieno di schifo e munnezza Alla macchina Non piace questo posto Alla macchina Non piace per niente Perché dovrebbe trovarsi a destra Ovvio E io ti tiro Dai Dai Apriti Minchia Se non ti tiro Guarda Oh Grazie A posto L'abbiamo aperto E qui dentro Cosa Madonna mia Se va piano la macchina In sta melma Che bello Dentro ci sono un sacco di cose brutte Direi che scenderò a piedi Torno presto Sì Giuro Buongiorno Salve Io apro questo Oh merda No 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 Aia Stavo aprendo una cosa Perché non puoi Farti I fattacci Tuoi E che Cazzo Madonna Ok vanno giù Che è un piacere Però La parata perfetta Oh sì Esecuzione furiosa A terra Ok Fantastico Ora me la fate aprire Grazie Molto gentile Gesù Questa gente Che non ti fa neanche Saccheggiare in pace Le loro abitazioni Come facciamo a convivere Con certa gente Ah di qua ci passa Ci passa anche di qua Io passerò di qua Perché mi sembra quella Meno minacciosa Salve Un altro round Si Boom Madonna santa No C'è provare Oh Madonna Come schivo Io non schiva nessuno Ragazzi Vai 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 Oh Giù È stato bellissimo Siamo una squadra Fortissimi Boom Ok E i piccoli Sono andati Lui è andato Vieni qua Siamo solo io e te Amore mio Pia questo Oh È un'esecuzione A terra furiosa Ma sì Neanche Hannibal Lecter Uccide la gente così Ragazzi Sono troppo forte Bello che poi Poi fa lo smargiasso No Max Ce ne sono altri di voi No Devi premere Ripetutamente Quit Non si viene schiacciato Grazie Dio Questo posto è fatto Per darti i suoi nervi Cioè l'unico motivo Dell'esistenza di questo posto È dare i suoi nervi A Quit Oh Finalmente posso muovermi Qua posso aprire E dietro troverò Ovviamente Un sacco di regali E no Niente Ancora me Fantastico Giordo Salve Salvino Vicino Un camion bello grosso Ah sì Mi piacciono i camion grossi È un po' come mi immagino Max In questo momento Allora E cosa succede? È enorme Salve Quindi Perché mi ha fatto questa panoramica Tutta sua Io vado di qua Anche se ci metteremo una vita e mezza Ad arrivare a quel coso lì Io vado di qua Ok E ok Bam Perfetto E poi dobbiamo andare sulla sinistra Suppongo Che bello L'hanno ricolorato bene Col sangue dei Dei loro Dei loro nemici Quella portiera lì Era Proprio Era un bijou Guarda Questo è il ritorno veloce È per evitare di rifarsi tutto attraverso la melma Grazie gioco Grazie Almeno quello Cosa succederà? Io ho paura Caricatore massimo Yeah Perché si chiama massimo Eh va la pena di prostrare il camion da guerra Ora via da questo buco infernale Ok Che problemi ci sono Ce ne andiamo? Ce ne andiamo Suona molto male Arrivederci È stato un piacere È la fuga più lenta nella storia del secolo però Dovrebbero prendermi per fare tipo i rumori nei videogiochi Sarei bravissimo Sarei veramente bravo Ne sono sicuro Eh sì Eh sì Direi che ce ne andiamo? Io direi che ce ne andiamo Se riusciamo Possiamo fare inversione Fantastico E via Dai un po' di velocità nella melma Tacci tua Che schifo Doveva proprio mandarci qui Quella zoccola di Hope Oh E ne siamo usciti Signori Ne siamo usciti Pulitissimi Oh No Siamo usciti Siamo usciti Non ti preoccupare Perfetto Quindi Abbiamo fatto quella missione C'è un'altra Dei fantasmi del passato E che siamo già a 15 minuti Quindi direi che la prossima missione la facciamo nel prossimo episodio E in questo facciamo una fortezza Così perché ci piace Che ne dite? Io dico che va bene Io dico che va molto bene Andiamo a farci questa Difficolta 4 E la legione di Stangham Quindi in realtà non bisogna distruggere cose Eccetera eccetera Sennò solo far fuori Tutti i nemici che ci sono Quindi sarà un sacco adrenalinica Let's go Oh va come si va meglio Quando non si è impantanati In della melma di merda Dove ti manda una ragazzina del cazzo Sì ce l'ho un po' con lei Allora Dov'è? Wait Wait for it Ti preoccupare Tieni ferma la Salve Boom Fatto Un altro Ok siamo fortissimi Dove ci sparano? Questo Sparagli Non posso? Abbiamo finito i proiettili Orrì Fantastico Facciamo un giro Ci vediamo No Rientra in macchina Tacitua rientra in macchina Grazie Hanno potenziato le difese perimetrali Porco il cazzo Arrivederci Weee Weee Sboom Perfetto Quello è andato Rosciamo a tirar giù anche lui? Dai che ce la facciamo Sì che ce la facciamo Wow Guardate che bello Vola Cecchino Vola No eh Ok Salve Sì va bene Possiamo anche allontanarci da qui Ah non era neanche quello Quello che volevamo fare Va bene Dove mi stai portando Amore mio Ok Abbiamo un problema Ma non posso staccargli le gomme Ma che belle che sono Oh beh E allora niente Facciamo così Ricarica 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 Uh Ok Ok Credo che sia andato Oddio fuoco Oddio il fuoco Ma che sei Ah no Perché ci entro Cambiamo Ok Arpione L'arpione L'arpione Grazie Ruota Up Eeeh Facciamolo esplodere Ma si dai No no Esplode Va bene C'è provare Neanche Uh Minchia i boli E' esploso Per i cazzi suoi Lo giuro Io non c'entro niente Vuoi venire qui? Vuoi venire qui? Ma ne sei proprio sicuro? Che io direi che Distacchiamo quella Poi Ricarichiamo l'arpione Dove sta andando? Stai bello Stai bello lì eh Non provare ad uscire Vediamo se riesco a colpirlo Con la gomma No eh Va bene Ok E' andato E vabbè facciamo questa di fortezza Ci siamo passati avanti Scusate E prendiamo questo E prendiamo questo Ce lo portiamo a casa Vieni con me Poi Poi Dov'è il cecchino E' lì? Avviciniamoci ancora di più Cecco No eh Oh merda No 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 Ho detto no E quando dico no è no E che cazzo Quindi ci manca soltanto Il cecchino qua sotto Cecchino Cecchino Ti fai prendere cecchino? No Vieni qua Lo so che ce l'abbiamo fatta Ora Dobbiamo solo trovare un modo di entrare Che non sia quello Ci deve essere un altro modo di entrare A parte le entrate principali No Voi che dite? Io dico che c'è per forza Allora Allora lì c'è una scala Che però si ferma lì Giustamente Dalle rovine Tipo da sotto C'è un modo per entrare E dai No eh E come faccio ad entrare Vediamo se si riusciamo a recuperare Un proiettile a cecchino Perché lì c'è anche un altro urlatore E siccome io ho tirato giù il cecco Se non mi sbaglio Da qualche parte qua Dovrebbe esserci il cadavere di un cecco Eh lo sappiamo Lo sappiamo Che c'è Stangham lì Non ti preoccupare Potete tranquillizzarvi adesso? Me ne sto andando Va bene? Dai Ripara Bravo ragazzo No no ripara Ripara Vediamo se riusciamo ad entrarci Proprio sparati Se riusciamo una figata Se riusciamo è veramente figo Smettila di farti le seghe sulla magnum Grazie Sempre a fare sti versi strani Non ha senso Dai Dai che ce la puoi fare Bravo ragazzo No Ok non funziona Però lo vedo Eccolo lì Sì 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 lo possiamo prendere Aha No ho sbagliato Dobbiamo tirarlo Qui indietro Eccolo lì E mo si tira signori Oh oh Il boom che non ha fatto Fantastico Quindi da qui possiamo entrare Perfetto Il cacciatore L'uratore di guerra Lo Me ne sbarazzo dopo Quante Quante stelle Ecco 5 Questa è addirittura più difficile Vuoi mettere Let's go Giorno Salve Come la va Tutto bene Spero Buongiorno Eh che palle però Oh le parate perfette E le botte E l'aggiustizamento Col coltello Perché sti cazzi Nope 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 Eh basta Che cazzo Dovete essere carini Con me Ho detto carini Madonna Madonna le botte Che non sto subendo Allora parliamone Cazzo Mi ha preso Bastardo Continua Assolutamente Non mi farò Spaventare Dal primo combattimento Perso Primo in tutta La fortezza Che si basa Sui combatti Però vabbè Non è un problema Vibro Oddio sta arrivando Anche un coso Vediamo se riusciamo No vabbè Buongiorno Salve Va bene Mentre arriva Tu tu rimani qui In mezzo alla tormenta Non ti preoccupare Io torno subito Giuro Lo prometto Si sono sempre io Salve Tu perché Uh Minchia le botte Ok Nope Uh Ahia Minchia le parate perfette Oddio sono un luciador Uh le altre parate perfette Madonna Ok lui è andato Nope Yes Sono 37 da uccidere Ne abbiamo uccisi 8 Fantastico Che bello Proprio c'ho C'ho una gioia nel cuore Ho avuto un'idea del cazzo Questo è quello che voglio Cercare di trasmettervi Che ho avuto un'idea del cazzo Ora Qui c'è altra roba da prendere Perfetto E qui Dove si va? Ma c'è l'entrata Dannazione Dannazione Ok Corriamo di qua Apriamo questo Rubiamo gli tutti i cos Perfetto Perché per quanto il gioco Dica che questo è sciacallaggio Questo è rubare Ragasuoli Ricordatevelo eh Questo è rubare Un altro po' di rottami Perfetto E andiamo su Buongiorno Salve Grazie Qui c'è un mucchio di roba Da vedere Tipo di là Secondo me si va avanti Quindi qua sopra Ci sarà roba Tipo dei proiettili Fantastico Un coltello Una carica per l'alpino Di qua si sale Anche di qua si sale Di qua si scende Perché la vita è fatta a scale C'è chi scende E c'è chi sale E con questo Momento di Totale silenzio Continueremo Non c'è nessuno Non vi preoccupate Tocci tu ho detto che non ti devi preoccupare Se ti preoccupi poi Mi tocca Mi tocca Metterti a dormire Giusto Ah eh che cazzo Sta gente che si preoccupa a caso Vi ho detto che non c'è nulla di cui preoccuparsi Adesso lo stare zitti Dormire Ok Quindi qua c'è dell'acqua Che Io Berrò E riempirò Perché abbiamo tipo la super cosa di grifa di sto cazzo E sblanchete Che suppongo sia tipo diventi Sei più bravo a tenere ferma la borraccia Mentre riempi l'acqua E quindi Eviti di perderne tipo Tanta litri Ogni volta che la usi Credo che sia quello Il valore del gettone di grifa Diventi più bravo a riempire la borraccia Qua non c'è niente quindi si esce Salve Come la va? Tutto bene? Fantastico io sto benissimo Saliamo per le scale Quel corpo appeso è molto interessante Si c'è qualcuno Buongiorno Taci tua Ho detto che devi stare Molto calmo E che cazzo però Uccisione a terra Ma porco il cazzo Uccidi col coltello Bravo Pensavo glielo infilasse nel culo Per come l'ha alzato Aia Ok lui è andato E tu? Lui è Bob Bob È uno di quelli particolari del gruppo A Bob piacciono le cose calde E cercare di colpire le persone attraverso i barili Bob ha anche dei problemi di locomozione Molto evidenti Che evitano che prenda parte ai farti In fretta Bob non sa volare Bob non sa volare La storia di Bob Fa ridere solo a me Fa ridere solo a me Va bene Lo so Ho un senso dell'umorismo Molto particolare Qualcuno potrebbe dire Che ha un senso dell'umorismo Bambinesco Io direi sì Eh Eh Abbastanza Non mi lamento Ora Uh pezzo di progetto Va lì Predito tutto a calci Bravissimo Ah pincai Ok Una delle due parti necessarie Fantastico Ok E da qua Io devo prepararmi A uccidere quel robo lì Il più in fretta Possibile proprio Quindi Oh Nope Sta zitto Avevo una personalità esplosiva Uhu Pezzetti di Di gente ovunque Ora possiamo combattere Devi darmi l'arma Dammi l'arma È mia La voglio Voglio l'arma Darmi l'arma Dammi Grazie Aia La piantate di colpire A tradimento Eh Madonna mia Le botte Madonna mia Le botte Le close line Vieni qua Chi cazzo Ti ha detto Di rompere le palle In questo modo Vai a studiare Cazzo Che tua mamma È un pensiero Sti bambini Che si Beh Si colorano le facce E poi vanno Partecipano alle gang Non capisco io Ora È tempo Di prendere Tutto quello Che hanno È la parte Più bella Della mia vita Tutto tututututututututututututututututututututututututu Qua non c'è niente Ok Qua Altra icone da distruggere Insegne Quel che l'è Altri munizioni Fantastico E mo E mo attraverso qua Giustamente E di qua dove porta Salve Ma io qua ci sono già stato Cioè c'era la strada facile Tipo c'è il sentiero Mi sta dicendo questo C'era la strada facile Perché hai fatto tutto l'altro giro Coglione ci sono le scale lì Ok dobbiamo solo scendere dall'altra parte Va benissimo Armiamoci e Prendiamo questo grazie E poi via che si va Di qua Apriamo a calci perché siamo dei veri uomini Perfetto Buongiorno Salve C'è o no Direi che si scende Dove? Salve Boom 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 Ok Speriamo Ci vediamo dopo eh Io prendo questo E arrivo C'era altra gente di qua? Ah si stanno venendo tutti Fantastico Di qua c'era roba? Si che c'era Munizioni No 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 Prendila Grazie No no ho detto Allora Tacci Tua Mi faccio fuori uno a uno Come gli spartani Oh yes Le uccisioni furiose Giustiziamo col coltello Fantastico Dove vai? Boom Le esecuzioni furiose che spaventano tutti Nope Non si fa Esecuzione a terra furiosa? Non si può Va bene Lo meniamo e basta Oh 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 E' parate Ehi stare è buono Non si urla alla gente Perché mi stanno rimandando fuori? Tipo fuori Questa è casa nostra Devi andartene Oh No Ok Dio santo Dio La cattiveria di questa cosa Abbiamo preso la legione credo La legione è andata Fantastico Chiudiamo melli Ok Abbiamo smantellato l'accampamento Io poi lo compiterò al 100% Quindi ragazzi Spero che questo episodio vi sia piaciuto Il mio nome è come sempre Qtun8 Noi ci vediamo al prossimo episodio di Mad Max Ciao a tutti Adesso sono il re del let's play Questa è una volta che ci vediamo al prossimo episodio di Mad Max Spero che ci vediamo al prossimo episodio di Mad Max